poi ci spariamo il primo pezzettino di fratac però ecco che sudata ciao ragazzi eccoci qua, sono andato oggi visto che ieri c'erano rami a altezza faccia ho fatto la stessa discesina di ieri pulendo un po' i rami così che almeno non ci si ammazza e mi sono accorto che si poteva creare un pezzettino di linea nuovo per eliminare tre curve praticamente dopo ho montato a differenza di ieri visto che venivo sullo stesso percorso lo stesso tipo di terreno perché da ieri e oggi non è cambiato nulla ho montato il Minion DHF 3C Double Down Tubeless Reality e vabbè c'erano tutte le sigle adesso lo inserirò nel sito perché non ce l'ho ancora messo sono solo i DHR2 però posso dirvi che la prima sensazione a parità di come ho detto prima di terreno 10 a 1 contro il Magic Mary 10 a 1 ha un grip nettamente nettamente più più capibile anche buttandola giù quando lascia però lascia leggermente appena appena c'è stata una curva che è andata via ma graduale non on off veramente nettamente ma anche molto più confortevole devo dire è un 2.5 per me la misura si potrebbe andare anche su un 2.4 ma la misura è ideale secondo me su 29 con le e-bike 2.5 avanti 2.4 dietro per me è perfetta veramente soddisfattissimo ho dovuto cambiare un freno perché si era rotto ieri c'era un pistone grippato praticamente ho montato un XT davanti e lì devo fare un attimo la mano con le due leve un po' diverse però il Minion veramente contro confronta il Magic Mary un altro pianeta secondo il mio punto di vista conosco gente che è nettamente di parere contrario proprio per questo la gomma è anche molto soggettiva quindi dipende da come si guida da come si sta sulla bici per me comunque ottima gomma veramente ottima gomma ah ovviamente le solite cose iscrivetevi al canale il sito e-bike for enduro e ci vediamo alla prossima ciao proviamo sta Minion sempre qui perché la andiamo a pulire che ieri abbiamo trovato dei rami altezza collo che è meglio togliere quindi ho preso proprio la radice che è meglio che è meglio Ah mamma mia Non vedo, non va alla tenuta fino alla fine Allora i rami Erano un po' più avanti Qui? Va Va che faticaccia così potrebbe prendere tutta dritta adesso la proviamo piano poi se non c'è troppo morte in corpo andiamo a provarla un'altra volta vedo posso fare la curva dritto per dritto così qua si viene qui e qua si va qua quando c'è il risultato sei contento no 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 no